house bed audiobooks presenta assassinio sull'oriente express episodio 1 parte 1 i fatti capitolo 1 un importante passeggero sul taurus express erano circa le 5 di una mattina d'inverno in siria lungo il marciapiede della stazione di aleppo era già formato il treno che gli orari ferroviari internazionali indicavano pomposamente col nome di taurus express e che consisteva in due vetture ordinarie un vagone letto e un vagone ristorante con annesso cucinino vicino alla scaletta di uno degli sportelli del vagone letto un giovane tenente francese splendido nella sua uniforme conversava con un omino imbacuccato fino alle orecchie e del quale erano visibili solo il naso arrossato e le punte di un paio di baffi arricciati all'insù faceva un freddo cane e quell'incarico di accompagnare alla stazione un distinto straniero non era davvero invidiabile ma il tenente du bosque lo eseguiva con virile coraggio frasi gentili gli uscivano di bocca in un francese forbito e benché fosse completamente all'oscuro di certi fatti accaduti aveva tuttavia udito delle voci che accennavano ad una misteriosa faccenda il generale il suo generale era apparso negli ultimi tempi sempre più di pessimo umore poi dall'inghilterra era giunto quello straniero un belga a quanto si diceva e al suo arrivo era seguita una settimana di curiosa tensione negli ambienti militari erano accadute cose strane un distintissimo ufficiale si era suicidato un altro aveva presentato le dimissioni visi ansiosi e preoccupati erano di colpo divenuti sereni e certe precauzioni militari piuttosto severe erano divenute e meno rigorose quanto al generale si sarebbe detto che all'improvviso fosse ringiovanito di dieci anni du bosque aveva udito per caso parte della conversazione tra lui e lo straniero lei ci ha salvato mon cher aveva detto il generale con la voce rotta dall'emozione e i baffoni candidi che gli tremavano mentre parlava lei ha salvato l'onore dell'esercito francese grazie a lei è stato evitato un enorme spargimento di sangue come posso fare per sdebitarmi a queste parole lo straniero il cui nome era Hercule Poirot tra l'altro aveva risposto crede forse che abbia dimenticato quella volta in cui mi salvò la vita il generale allora aveva detto che quell'episodio apparteneva al passato che lui non ne aveva alcun merito e dopo qualche ulteriore allusione alla francia al belgio alla gloria e all'onore a un mucchio di altre cose simili i due si erano abbracciati affettuosamente e la conversazione era finita lì che cosa fosse effettivamente accaduto il tenente du bosque non lo sapeva ancora era stato incaricato di accompagnare il signor Poirot alla stazione dove avrebbe preso il Taurus Express e lui ubbidiva con lo zelo e con l'ardore che si convengono ad un giovane ufficiale che ha davanti a sé una promettente carriera oggi è domenica disse a un certo punto domani sera lunedì lei sarà a Istanbul non era quella la prima volta che diceva la stessa cosa la conversazione che si svolge sul marciapiede di una stazione tra chi parte e chi rimane è soggetta a una serie di ripetizioni infatti convenne il signor Poirot e ha intenzione di trattenersi là per qualche giorno me oui non ho mai avuto occasione di visitare Istanbul sarebbe un vero peccato attraversarla come sa schiocco le dita con un gesto significativo non ho nessuna fretta voglio fare il turista per qualche giorno ah la moschea di santa sofia che meraviglia disse il tenente du bosque che non l'aveva mai vista una improvvisa folata di vento gelido avvolse i due uomini che rabrividirono il tenente ne approfittò per dare una furtiva occhiata al proprio orologio le 4 e 55 ancora cinque minuti sicuro che il belga non si fosse accorto di quella manovra si affrettò a cercare qualche altro argomento per non far languire la conversazione pochi viaggiatori in questo periodo dell'anno osservò guardando i finestrini del vagoneletto infatti disse Poirot speriamo che non rimaniate bloccati nella neve accade qualche volta è accaduto sì ma quest'inverno non ancora speriamo bene allora i bollettini meteorologici dell'europa sono brutti bruttissimi nei balcani per esempio è già nevicato parecchio e minaccia di continuare la conversazione rischiava di incanalarsi di nuovo su un binario morto e il tenente du bosque si affrettò a scongiorare il pericolo domani sera dunque alle 7 e 40 sarà a costantinopoli già fece Poirot esso giunse anche lui disperatamente teso a tenere in piedi il discorso ho udito dire che la moschea di santa sofia è bellissima davvero magnifica sulle loro teste la tendina di un finestrino fu scostata e apparì il viso di una giovane donna osservava la pensilina senza abbassare però il vetro mary debenham aveva dormito poco da quando il precedente giovedì era partita da bagdad non era riuscita cioè a prendere sonno né sul treno che l'aveva portata a kirkuk né nella cosiddetta casa di riposo di mosul e nemmeno quell'ultima notte stanca a causa della forzata e snervante veglia nello scompartimento pur riscaldato che occupava aveva scostato la tendina per guardare fuori dal finestrino quella doveva essere aleppo nulla da vedere naturalmente all'infuori di un lungo marciapiede scarsamente illuminato da un punto impreciso proveniva un furioso vociare in arabo persone che litigavano probabilmente quei due signori sotto il suo finestrino invece parlavano in francese uno era un ufficiale francese l'altro un ometto con enormi baffi a punta rivolti all'insù mary sorrise non aveva mai visto un uomo tanto imbacuccato vide poi il conduttore del vagone letto avvicinarsi ai due uomini per avvertirli che il treno stava per partire lo udì consigliare cortesemente a monsieur di salire nello scompartimento lo metto si tolse il cappello che strana testa era calva a forma d'uovo pensò mary nonostante che fosse angosciata da gravi pensieri la ragazza sorrise buffo davvero quel tipo il tenente du bosque faceva ora il suo discorsetto di addio a poirò se l'era preparato in testa da un pezzo era proprio un discorsetto molto forbito molto cortese e molto adatto alla circostanza il signor poirò per non essere da meno rispose adeguatamente un voiture monsieur ripete il conduttore il signor poirò finalmente salì sul treno sembra lo facesse a malincuore il belga agitò quindi la mano in segno di addio il francese si rigidì sull'attenti e rispose col saluto militare in quel momento il treno con un pauroso strattone si mosse lentamente enfin mormorò a se stesso il signor ercchio il poirò voilà messier disse il conduttore con un ampio gesto teatrale per far osservare a poirò la comodità e il comfort dello scompartimento assegnatogli indicò poi le valigie ordinatamente disposte la valigetta l'ho messa là guardi soggiunse quella mano tesa aveva però un altro significato puro capì e vi mise una banconota piegata merci messier il conduttore divenne loquace e più che mai servizievole ho io i biglietti del signore dovrebbe favorirmi anche il passaporto e mi interrompe il viaggio istambul giusto sì non ci sono molti viaggiatori a quanto pare no messier ce ne sono solo altri due entrambi inglesi un colonnello che viene dall'india e una signora partita da bagdad ha bisogno di qualche cosa messier puro chiese una mezza bottiglia di acqua minerale imbarazzante salire in treno alle cinque del mattino due ore prima dell'alba puro pensava di non poter dormire a lungo raggomitolato come si era messo in un angolo ma si era invece assopito quasi subito si risvegliò che erano le 9 e 30 e si avviò subito al vagone ristorante a prendere una tazza di caffè caldo non c'era là che una signora in quel momento certo la giovane inglese della quale aveva parlato il conduttore era alta slanciata bruna sui 28 anni nel modo come mangiava come chiamò il cameriere per chiedere altro caffè c'era una sicurezza che rivelava l'abitudine al viaggiare e la conoscenza del mondo erchio il puro non avendo di meglio da fare si divertì a studiare la sua compagna di viaggio ma senza farsi scorgere la giudicò una di quelle giovani donne capaci di badare a se stesse ovunque vadano doveva essere un tipo freddo un po altero a puro non piacquero molto l'austera regolarità delle fattezze nel delicato candore della pelle ammirava invece i bei capelli neri e ondulati gli occhi grigi quieti e impersonali ma lei era decise infine puro dentro di sé un po troppo altera per definirla una jolie femme poi un altro viaggiatore entrò nel vagone ristorante era un uomo alto fra i 40 e i 50 anni asciutto abbronzato con i capelli brizzolati alle tempie il colonnello che viene dall'india si disse puro il nuovo venuto fece un lieve inchino alla ragazza buongiorno signorina d'ebenham buongiorno colonnello arbatnot permette ma naturalmente si accomodi l'ufficiale si sedette e chiamò imperiosamente il cameriere ordinandogli uova e caffè il suo sguardo si fermò un momento su hercule poirot poi si volse altrove indifferente i due inglesi non erano molto loquaci si scambiarono solo qualche altra breve frase banale e poi la ragazza si alzò e tornò nel proprio scompartimento a colazione poirot osservò che di nuovo si erano seduti nello stesso tavolo ora chiacchieravano un po più animatamente il colonnello parlava del panjab e di tanto in tanto faceva alla ragazza qualche domanda su bagdad dove a quanto era facile comprendere lei era stata istitutrice di qualche famiglia dalla conversazione che seguì poirot comprese che i due avevano scoperto di avere amici comuni la qualcosa li rese immediatamente meno sostenuti e contrariamente all'uso inglese quasi amici poi il colonnello le domandò se andava direttamente in inghilterra o se si sarebbe fermata di istanbul no vado direttamente in inghilterra non crede che sia un peccato ho fatto questo stesso viaggio due anni fa e in quell'occasione mi fermai tre giorni a istanbul capisco beh le confesso che mi fa piacere dal momento che neppure io mi fermo a questo punto il colonnello fece un lieve inchino un po goffo e arrossi leggermente è sensibile a quanto pare il nostro colonnello si disse puoro divertito la signorina de benham rispose che ne era contenta ma con un tono distaccato ora poi puoro osservò che il colonnello la riaccompagnava nello scompartimento puoro si alzò e uscì anche lui e li raggiunse nello stesso vagone poco dopo il treno passava nello splendido paesaggio del taurus i due inglesi dietro il finestrino guardavano ammirati la signorina de benham improvvisamente sospirò e puoro la udì mormorare oh com'è bello vorrei vorrei che cosa domandò il colonnello vorrei potermelo godere questo stupendo paesaggio arbat not assunse a un'espressione più risoluta e un po' più incupita poi disse a bassa voce magari lei non fosse implicata in questa faccenda stia zitto la prego nulla di male disse il colonnello guardando contrariato puoro poi aggiunse insomma non mi va a genio che lei debba fare l'istitutrice la ragazza rise di un riso che si sarebbe detto un po' forzato o non deve dire una cosa simile l'istitutrice calpestata e tiranneggiata è solo un mito ormai non si dissero altro il colonnello forse si vergognava ora del suo scatto il treno giunse a conia che erano circa le 11 e 30 di sera i due inglesi scesero a sgranchirsi le gambe e passeggiarono avanti e indietro lungo il marciapiede coperto di neve quanto a puoro si accontentava di osservare dal finestrino la febbrile attività che animava la stazione trascorsi una decina di minuti però si disse che dopo tutto una boccata d'aria fresca gli avrebbe fatto bene scese a sua volta sul marciapiede e prese anche lui a passeggiare avanti e dietro a un certo punto sorpassò la motrice e udì voci sommesse riconobbe subito chi fossero i due che appena si scorgevano all'ombra di un carro merci mary diceva arbatnot ma la ragazza lo interruppe no non adesso non adesso quando sarà tutto finito allora discretamente puoro ritorno indietro piuttosto perplesso se non avesse udito parlare il colonnello astento avrebbe riconosciuto in quella voce femminile tremante il tono sicuro e quasi freddo adottato finora dalla signorina d'ebenham la mattina seguente poi pensò che i due viaggiatori inglesi potessero avere addirittura bisticciato si parlavano appena e la ragazza aveva l'aspetto preoccupato e sofferente erano circa le 14 e 30 quando il treno si fermò quasi improvvisamente dai finestrini si sporsero teste di viaggiatori curiosi o inquieti presso i binari si vedeva un gruppetto di uomini che parlavano fra loro indicando qualche cosa sotto il vagone ristorante puoro si affacciò a sua volta e domandò chiarimenti al conduttore del vagone letto che passava correndo l'uomo gli rispose puoro si ritrasse nel voltarsi per poco non urtò contro la signorina d'ebenham non si era reso conto di averla alle spalle che cosa è successo chiese la signorina d'ebenham in francese perché questa fermata nulla di grave mademoiselle qualcosa ha preso fuoco sotto il vagone ristorante ormai il principio d'incendio è stato spento e si sta riparando il guasto stia tranquilla non c'è alcun pericolo lei fece un gesto brusco come per dire che il pericolo non aveva alcuna importanza e replicò sì sì capisco ma è del tempo che mi preoccupo giungeremo certamente in ritardo già probabile convenne puoro ma non possiamo ritardare questo treno dovrebbe arrivare a istambul alle 6 e 45 poi ci vorrà un'altra ora per attraversare il bosforo e prendere l'oriente express alle 9 un paio d'ore di ritardo ci farebbero perdere la coincidenza già potrebbe anche succedere disse puoro guardò la donna con una certa curiosità la mano che teneva appoggiata al finestrino era lievemente percorsa da tremiti nervosi e anche le sue labbra tremavano è proprio così importante per lei mademoiselle domandò importantissimo non posso assolutamente perdere l'oriente express gli voltò le spalle e andò a raggiungere nel corridoio il colonnello la sua preoccupazione tuttavia era inutile dieci minuti dopo il treno ripartì e arrivò ad aida passar con soli cinque minuti di ritardo aveva riguadagnato nel percorso la maggior parte del tempo perduto il bosforo era agitato quel giorno e puoro non si godette molto la breve traversata giunto al porto di si fece portare direttamente all'hotel tocatlian capitolo 2 il signor book puoro chiese una camera con bagno poi si informò se fosse arrivata apposta per lui ritirò tre lettere e un telegramma alla vista di quest'ultimo inarcò leggermente le sopracciglia non se lo aspettava naturalmente lo aprì come al solito senza fretta eccessiva e lo lesse attentamente sviluppi inaspettati caso castner secondo sue previsioni stop ritorni immediatamente stop voilà ecco qui una seccatura borbottò puoro dando un'occhiata all'orologio si volse poi al portiere devo andarmene stasera a che ora parte l'orient express alle 9 messie può riservarmi un posto sul vagone letto certo messie non vi è alcuna difficoltà in questo periodo dell'anno i treni sono quasi tutti vuoti prima o classe prima tre bien monsieur dove è diretto a londra allora le farò riservare un posto sul vagone letto istambul calais puoro tornò al bureau disdisse la camera che si era fatto assegnare e infine entrò nella sala ristorante stava ordinando al cameriere quando sentì che qualcuno gli metteva una mano sulla spalla mentre una voce dietro di lui esclamava ah mon vieux questo è un piacere veramente inaspettato l'uomo era anziano basso e tarchiato coi capelli tagliati a spazzola sorrideva evidentemente compiaciuto puoro si alzò subito messie buc messie puoro buc era belga come puoro e faceva parte del consiglio di amministrazione della compagnia dei vagoni letto la sua conoscenza con lui che era il maggiore esponente della polizia belga risaliva molti anni prima come mai è capitato qui domandò cordialmente buc un affaruscio da sbrigare in serie a e quando riparte stasera stessa splendido parto anch'io vado fino all'osanna per affari viaggia con l'oriente express oui proprio ora ho detto al portiere di prenotarmi un posto sul vagone letto veramente avevo intenzione di rimanere qui qualche giorno ma ho trovato un telegram che mi chiama in inghilterra per un affare di una certa importanza a les affaires les affaires esclamò buc beh ci vediamo fra poco allora concluse si allontanò mentre l'investigatore affrontava la sua zuppa cercando di non sporcarsi i baffi dopo che l'ebbe gustata mentre aspettava il secondo si guardò attorno c'erano nella sala altre cinque o sei persone di esse due soltanto lo interessarono due uomini seduti a un tavolo non lontano dal suo uno era un bell'uomo sulla trentina senza dubbio un americano l'altro quello che soprattutto aveva richiamato l'attenzione di puro era invece fra i 60 e i 70 così a distanza aveva il blando aspetto del filantropo la lieve calvizie l'alta fronte la bocca sorridente che mostrava bianchissimi denti falsi tutto sembrava rivelare in lui un uomo d'animo mite e benevolo gli occhi però facevano pensare a un tipo del tutto diverso piccoli infossati dallo sguardo astuto e crudele quando poi il vecchio dicendo qualche cosa al suo compagno diede un'occhiata intorno alla sala quegli occhi si posarono su poirò e per una frazione di secondo ebbero un'espressione di strana malevolenza paga il conto hector disse poi alzandosi la voce era lievemente appannata aveva uno strano tono quasi dolce ma di una dolcezza che si sarebbe detta pericolosa quando poirò raggiunse il suo amico book nella hall i due uomini erano in partenza evidentemente i loro bagagli erano già stati portati nell'atrio e il giovane che l'altro aveva chiamato hector sorvegliava l'operazione costui infine aprì la porta a vetri e disse rivolto al suo compagno ora siamo pronti signor ratchet l'altro annui e passò per primo a bion cosa ne pensa di questi due signori domandò poirò sono americani rispose pronto book il giovane mi sembra un bravo ragazzo e l'altro l'altro ecco se devo essere sincero non mi va a genio mi ha fatto una spiacevole impressione anche a lei poirò riflette un attimo prima di rispondere quando mi è passato accanto nel ristorante ha avuto anche una strana impressione come come se passasse un animale selvatico anzi una belva e una delle più feroci parlava pacato eppure dall'aspetto si direbbe una persona assolutamente rispettabile può darsi ma non riesco a liberarmi dell'impressione che mi sia passato vicino lo spirito del male il male quel rispettabile signore americano quel rispettabile signore americano appunto sarà come dice lei concluse allegramente book del resto c'è tanto male nel mondo in quel momento si avvicinò il portiere pareva confuso e spiacente è incredibile signore esclamò rivolto a poirò e in tono di scusa non c'è più neppure un posto in prima classe nel vagone letto mon dieu disse book meravigliato in questo periodo dell'anno ma forse ci sarà qualche comitiva di giornalisti di uomini politici non saprei signore disse rispettosamente il portiere volgendosi verso di lui ah ma non si preoccupi amico mio fece book e diede una leggera pacca sulla spalla di poirò aggiusteremo le cose c'è sempre uno scompartimento libero e cioè il numero 16 pensa il conduttore a non dirlo a nessuno sorrise diede un'occhiata all'orologio e soggiunse andiamo intanto e ora che ci avviamo alla stazione book fu salutato con ossequiosa premura dal conducente del vagone letto buonasera signor book il suo scompartimento è quello col numero uno fece poi segno ai facchini i quali spinsero il carrello con i bagagli lungo la vettura che portava a targhette indicanti la destinazione istanbul trieste calè tutto pieno stanotte a quanto udito vero michelle domandò book al conduttore una cosa incredibile messier pare che mezzo mondo voglia mettersi in viaggio proprio stanotte comunque bisognerà che si trovi un posto a questo signore che è un mio caro amico può dargli il numero 16 sottolineò la richiesta con un'occhiata d'intesa al conducente un uomo alto magro di mezza età che sorrise in atto di comprensione ma rispose con tono di scuse purtroppo è preso anche il numero 16 signore che cosa ma insomma che cosa succede domandò in tono irritato book c'è qualche congresso forse una comitiva di turisti ma no un semplice caso messier come dicevo pare che tutti abbiano voglia di viaggiare stanotte fece book seccato vediamo a belgrado si attaccherà il vagone proveniente da atene e anche il bucarest parigi posto ce ne sarà a sufficienza direi ma belgrado aggiungeremo solo domani sera quindi il problema è per stanotte ma non c'è neppure un letto in seconda classe libero sì c'è ma 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 lo scompartimento è già occupato da una donna una cameriera tedesca non si preoccupi caro amico intervenne puro potrò viaggiare in una vettura ordinaria ma neppure per sogno protestò book poi si rivolse di nuovo al conduttore di michelle sono arrivati tutti i viaggiatori del vagone letto e non proprio tutti signor book ne manca ancora uno fece il conduttore un po esitante e che posto gli sarebbe stato assegnato il numero sette in uno scompartimento di seconda non è ancora qui e mancano appena quattro minuti alle nove chi è precisamente un inglese e michelle scorse la lista che aveva in mano ecco signor harris metti allora il bagaglio di monsieur al numero sette ordinò book se questo signor harris si farà vivo gli diremo che dato il ritardo pensavamo che avesse cambiato programma insomma aggiusteremo le cose in un modo o nell'altro come vuole lei messie rispose il conduttore che diede subito ordine ai facchini di portare in vettura il bagaglio di puro poi si trasse da parte lasciando che questi salisse sul vagone proprio in fondo messie lo avvertì il penultimo scompartimento l'investigatore si avviò lungo il corridoio ma non senza difficoltà la maggior parte dei viaggiatori infatti ingombrava lo stesso passaggio e solo a stento giunse allo scompartimento indicato gli affaccendato a spostare una valigia vide il giovane americano che aveva notato alto cattelian all'apparire di puro si accigliò i'm sorry butter must be a mistake disse subito in inglese poi ripete in un francese un po stentato scuse ma deve esserci un errore lei e il signor harris domandò a sua volta puro in inglese no io mi chiamo mcqueen ma venne interrotto dalla voce del conduttore comparso dietro puro voce sommessa che parlava all'americano in voce di scusa scusi messie non ci sono altri letti liberi nel vagone questo signore deve prendere posto qui dopo di ciò michelle aperto il finestrino del corridoio si fece porgere dai facchini il bagaglio di puro l'investigatore aveva notato il suo tono di scusa e aveva dedotto che senza dubbio quel signor mcqueen aveva dovuto promettere al conduttore una buona mancia perché lo lasciasse solo nello scompartimento non c'era dubbio che anche la più munifica delle mance perdeva di valore di fronte ai desideri di un amministratore della compagnia che per di più si trovava sul treno michelle dispose il bagaglio sulla reticella poi uscì di nuovo nel corridoio voilà messie è tutto aggiustato il suo letto è quello superiore numero 7 fra un minuto si parte e si allontanò frettoloso puro rientrò nello scompartimento il suo compagno di viaggio sorrise evidentemente aveva represso il momentaneo malumore per quella che senza dubbio considerava una intrusione e aveva deciso di prendere la cosa con filosofia il treno è il completo disse cortese si udì il trillare di un fischietto il locomotore mandò a sua volta un lungo malinconico fischio e una voce gridò dalla pensilina in voiture i due uomini uscirono nel corridoio senta disse improvvisamente il giovane americano a poirò se preferisci avere il letto inferiore perché è più comodo e via dicendo faccia pure per me è lo stesso senza complimenti proprio un giovanotto simpatico pensò poirò che rispose no no grazie non vorrei privarla ma non è il caso neanche di parlarne molto gentile ma cortesi proteste da ambo le parti e poi l'investigatore spiegò vede si tratta di una notte soltanto a belgrado furono interrotti da una scossa improvvisa e i due uomini si avvicinarono ai finestrini il marciapiede illuminato pareva scivolare lentamente lungo il treno l'orient express cominciava il suo viaggio di tre giorni attraverso l'europa grazie per aver ascoltato e ci vediamo al prossimo episodio ciao